La rea riformista del PD batte un colpo. Il messaggio viene inviato direttamente da Lorenzo Guerini. Alla guida della corrente. È lui a palare di un partito consapevole di non essere autosufficiente e a ribadire la necessità di un campo largo. Lavoriamo a un'alleanza con tutti quelli che vogliono costruire un'alternativa alla destra. Un'alleanza larga con le forze presenti in piazza ma che guardi anche a quelle forze che ieri non c'erano. Dobbiamo sollecitarle a fare un lavoro insieme oggi all'opposizione. E poi in prospettiva. All'indomani della manifestazione per cui i DEM sono scesi in piazza a protestare contro le politiche del governo Meloni, Guerini fa un bilancio dell'evento e ritorna sull'alleanza con il Movimento 5 Stelle. Quest'ultima presente proprio nella piazza di Elish Line con Giuseppe Conte. Quella di ieri prosegue raggiunto da Alan Kronos, è stata una bella manifestazione che ha messo in campo un'idea di alternativa al centro-destra. Che vede il PD come perno di un'alleanza larga in grado di competere per il governo del paese. Insomma. Il PD è sì il perno della coalizione. Ma in solitaria non va da nessuna parte. E la comunicazione sembra suonare la sveglia proprio alla segretaria. Nella piazza di sabato dice ancora abbiamo segnato i nostri punti per quanto riguarda il contrasto all'azione di questo governo. Sottolineando l'insufficienza manifestata dall'esecutivo Meloni nell'affrontare i nodi del paese. A partire da una legge di bilancio che non mette in campo alcuna idea di equità. Abbiamo inoltre denunciato la mancanza di un sostegno alle fasce più deboli e poi evidenziato i nostri punti programmatici. A partire dal lavoro e dalla sanità. Ecco perché a suo dire i grillini potrebbero essere gli interlocutori giusti. Serve collaborazione e non competizione per rubarci l1%. L'avversario è la destra. La competizione tra noi non serve. Da qui l'apertura. Da parte nostra aggiunge il presidente del Copa Sir. Nessuna paura a dialogare e confrontarsi. Capito Schlein Grazie 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 Grazie